Fanciulli, può sembrare un risultato stonato per quelle che erano le previsioni alla vigilia ma il pareggio riacciuffato da Romero in realtà ha il retrogusto di vittoria e ne parliamo, ne parliamo per davvero, prima però scarichiamo l'app OneFootball qualora non l'aveste ancora fatto, perché? Perché dovete eliminare giornate, io lo dico risultati, calendario, statistiche, schede, no, news, calciomercato, sempre aggiornati c'è quest'app OneFootball, te la metti lì in tasca, via, liscio come l'olio e stai sempre lì sul pezzo poi è gratuita, è gratuita, quindi anche il like, anche il like a questo video, è gratuito a te no, non costa veramente nulla, a me mi aiuta, facciamo due piccioni con una fava sì, si dice così, vabbè, alcune volte mi perdo in un bicchiere d'acqua, me lo bevo questo bicchiere e parliamo dell'Atalanta bisogna abituarsi, bisogna abituarsi a ogni scenario, a ogni risultato come diciamo sempre, ogni partita ha una storia a sé quest'anno più che mai, quest'anno davvero si gioca, si gioca, si gioca con un ritmo, con una con una costanza, con una frequenza che veramente mette a dura prova, mette a dura prova giocatori tattiche, tatticismi appunto, però più, è un'Atalanta che, per riassumerla, è la solita cosa voglio dire, è la stessa Atalanta riproposta nelle ultime uscite cioè un'Atalanta che comunque crea più dell'avversario se andiamo a vedere al net, l'occasione della Dea, l'occasione del Migiulla non c'è parone, ma c'è quel ma che mi porta a dire comunque meno, meno occasioni rispetto a quella che era la frequenza, no? che ricordavamo, mi ricordo un'Atalanta che spumeggiate che ha almeno 10 gol poi è vero, la Metali sbagliava, però la Metali segnava e portava a casa quei 5 gol quando c'erano quelle squadre a un pochettino di medio-bassa classifica questo è un po' diverso, perché giustamente non puoi giocare sempre con un'intensità elevata non ce la fai, non sostieni alcuni ritmi ci sono da partita a partita cambiamenti di giocatori, proprio individualmente non puoi schierare sempre gli stessi giocatori quindi magari il ciccio lo faccio entrare nel secondo tempo ogni volta la squadra viene in qualche modo, non dico stravolta ma comunque ci sono delle pedine che cambiano e poi escono fuori dei risultati mettici che l'avversario trova un gol incredibile perché quello là fa da perno, Caba, se non sbaglio il 9, Caba fa da perno lì rimbalza tra Romero e Jim City e comunque la prende lui, lì doveva essere ostacolato meglio e ne esce un assist perfetto, una sponda perfetta per il giocatore là che fa un tiro, PAM! forse pure mezzo deviato, tra l'altro PAM! imparabile, diventa quel punto e poi devi andare a recuperare, poi si mette in salita poi non è facile, poi non è semplice perché intanto se avesse segnato prima Zappata stava in vantaggio e come al solito gli episodi cambiano cambiano un pochettino la melodia, il sonoro della gara stessa invece ti trovi ad andare a recuperare se non la sblocchi, se non segni rischia anche al 2-0 perché mo' non so bene se fosse in fuorigioco o meno lì Caba sempre di tacco che ha fatto una roba incredibile un tacco volante e lì rischia addirittura l'imbarcata perché segna là, 2-0 e non ti lascia a D ma le occasioni, ma quello e quell'altro è inutile, non è neanche poi consentito recriminare non è andata così per fortuna la Dea poi in qualche modo con l'ingresso di Ilicic lo stesso Traorieri ragazzi spumeggiante sinonimo di freschezza di leggerezza anche mentale spumeggiante servito da Ilicic che lì gli esce quella è la giocata di Ilicic quante volte l'anno scorso riproponeva giocate del genere ecco quest'anno voglio voglio più costanza da lui in questo senso perché quelle giocate non le vedo quasi mai invece che passaggio maniacale per Traorieri che strattenuto lì è mancato un po' d'esperienza se no strattenuto in quel modo ti butti a terra e ti procuri rigore in qualche modo invece ha cercato ugualmente la conclusione e gliel'ha parata poi Zapata e lì c'è stata un'occasione un'altra occasione si è liberato al desto è stato bravo Traorieri ha mostrato l'Atalanta e poi trova il gol con il suo giocatore al momento con l'uomo in più Romero è un uomo in più dietro un uomo in più davanti un uomo in più sotto ogni punto di vista un giocatore che sta facendo benissimo sta facendo benissimo Arcigno è uno di quei giocatori veramente ostici rudi anche se vogliamo grezzi ma di un di una di una è determinante ecco determina c'è poco da da dire bellissimo gol e poi nel finale anzi ha rischiato anche di fare la doppietta incredibile quando è stato messo lì alto e e questo è comunque in soldoni ne esce fuori un pareggio che può anche stonare tutto quello che vuoi ma un pareggio ottimo che serve alla causa perché poi adesso l'Atalanta se la va a giocare contro l'Aex con due risultati su tre dalla propria vediamo vediamo mi sento di dire che serve la migliore Atalanta mi sento di dire che non basta quella Atalanta vista stasera mi sento di dire che ci deve arrivare al meglio perché una gara dura una gara molto molto dura molto difficile anche con Liverpool oggi l'Aex è una squadra tosta difficile sarà bella gara sarà davvero bella 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 gara ci aspettiamo la migliore Atalanta e serve la migliore Atalanta va bene vogliamo sapere cosa ne pensate voi commentate like e iscrivetevi al canale se vi va un grande abbraccio Daneschi e iscrivetevi al canale a la migliore Atalanta a la migliore Atalanta a la migliore Atalanta a la migliore Atalanta attabo